Ciao a tutti amici della Palla Nuoto, allora sono qui di ritorno ad aver fatto il tampone che questo Stato a Carogna mi impone questa mattina, trasmissione che ha subito purtroppo influenze negative internet fatta con un tavolino messo qui nel piazzale di fronte alla nostra televisione per non incorrere nelle problematiche, non mi fido di niente e di nessuno, anche se mi considero assolutamente il numero uno in assoluto per avere il coraggio di mandare in onda sul 194 tutto e di più da tutte le piazze d'Italia, oggi giornata davvero particolare, ma noi nel particolare entriamo con la nostra seconda puntata di Pallombella Biancorossa, ancora Palla Nuoto di venerdì, grazie a tutti coloro che ci danno una mano, grazie Enrico e grazie ovviamente alla Fin Italia che ci consente di prendere qualche cosa sì e qualche cosa vedremo di prendere nel futuro. Seconda puntata che per dovere di cavalleria anche onore alle ragazze dell'Under 20 di Giacomino Grassi, tecnico pratese, coach dell'Italia Under 20 che è in terra di Netaia in Israele, ci vede mentre noi stiamo andando in onda, è in corso la semifinale del campionato Under 20 mondiale di pallannuoto dove ci sono due ragazze della Rari, Sara Cordovani e Letizia Nesti, la Cordovani ha segnato altri due gol nella semifinale contro Israele, abbiamo vinto 15-9, ci siamo guadagnati la semifinale, siamo tra le migliori quattro al mondo e già tanto, stasera ce la stiamo vedendo con la Spagna che nell'ultimo quarto a sorpresa ieri ha matato la Russia, per cui forza ragazze lunedì mattina nel corso della rassegna stampa ovviamente andremo a raccontarvi come questo campionato Under 20 mondiale si è evoluto, allora andiamo che andiamo a ripercorrere tutto quello che è successo dalle prime partite, allora abbiate solo pazienza, vado a far scorrere il cursore, iniziamo con purtroppo la sconfitta contro la Grecia 12-6, aveva segnato un gol la nostra Cordovani di un campionato mondiale che iniziava con questi gironi, girone A Grecia, Slovacchia, Italia, Germania, girone B Sudafrica, Francia, Olanda, Spagna, girone C Israele, Argentina, Serbia e Peru, girone D, Brasile, Ungheria, Russia e Uzbekistan, dunque con i parziali di 3-2, 4-1, 3-1, 2-2, nella rivincita della finalina per il terzo posto dell'ultima edizione di Funchal 2019 che consegnò il podio all'Italia, le azzurre questa volta purtroppo vanno sotto, a metà gara sotto 7-3, dominava la Contoni che alla fine segnerà 5 reti per l'Italia, tripletta della Giustini, dopodiché iniziava il cammino tambur battente, perché? Perché in gara 2 l'Italia seppelliva la Germania 20-1 con 3 punti esclamativi, Cordovani un poker, 4 gol, Lanesti un gol, dunque pronto riscatto dell'Italia under 20 di Giacomo Grassi che dopo la sconfitta con la Grecia nella seconda giornata della fase al Gironi seppellisce in onda maremoteggia la Germania 20-1, 7-0, 5-1, 4-0, 4-0 e dunque potevamo proseguire, 6 gol della Bettini, 4 della Cordomani, 3 di Giustini, 2 di Leone e Cergol, una ciascuna Gagliardi, Nesti e Klatoschi di Trieste. Proseguiamo, andiamo al prossimo incontro in risalita del tabellone dove matavamo, inondavamo e costringevamo a sbattere sugli scogli anche la Slovacchia battendola 26-7, dunque l'Italia chiude il gruppo A con 4 punti al secondo posto, primo gol slovacco dopo due minuti di gioco con Sendaklova in extra player ma poi il breccazzurro 9-0 che indirizzava la partita già a metà del secondo tempo. Match winner la Bettini, 8 gol, spiccano anche Klatoschi con 5, Giustini con 4, di lì andavamo ad affrontare negli ottavi di finale la Francia terza del gruppo B. E allora proseguiamo, vediamo cosa successe, altra vittoria eclatante delle Azzurre con la Francia finisce 19-4 e ci guadagnaviamo il quarto di finale con Israele, dunque le ragazze della band di Giacomo Grassi volano nel quarto di finale dei campionati mondiali di Netaia in terra di Israele dove avremo affrontato ieri sera Israele, abbiamo vinto, siamo in semifinale, dunque dopo l'esordio negativo con la Grecia le vittorie con Germania e Slovacchia, poi con la Francia le Azzurre dominano 19-4, Italia sempre avanti nel punteggio, già 8-1 a metà gara, 4 gol della Giustini, Tripletta, Iannarelli, doppiette di Leone, Cordomani, Cergol, Ganti e Bettini, un gol a testo di Gagliardi e Nesti. E allora andiamo, scaliamo perché ieri sera l'obiettivo è stato raggiunto, l'Italia è entrata a pieno merito nella zona medaglie, le ragazze di Giacomo Grassi battono anche Israele, le padroni di casa, 15-9, nei quarti di finale approdano alla semifinale dei campionati mondiali di Netaia, Azzurre a dominare, sempre avanti l'incontrollo, le padroni di casa che avevano saltato gli ottavi, subiscono dunque il primo stop dopo tre vittorie consecutive nel loro girone eliminatorio, l'Italia in semifinale sta affrontando mentre noi andiamo in onda la Spagna che ieri sera a sorpresa, devo dire, ha eliminato la Russia, primo break azzurro, doppietta di chi? Se non della nostra Sarina Cordovani, rarinante esplorenza in poco più di un minuto e mezzo, con i due golli di ieri sera la Cordovani sale a quota 9 nel tabellino, due golli invece per la Nesti, replicava la Bogacenco doppietta Israele, nel finito di primo tempo Zaria di nuovo più due con i golli in extra player di Leone e Giustini, iniziava in seconda, arrivava poi un'altra doppietta, quella della Bettini, la squadra di Grassi allungava più quattro, Israele che finora non aveva avuto problemi nel proprio girone Serbia, Argentina e Perù, si trovava a affrontare con l'Italia le prime difficoltà, guadagnava sì tre superiorità numeriche consecutive, ma l'Italia difendeva con ordine, soltanto al terzo tentativo la gol della Farkas, 3-6, l'Italia appariva in controllo, ruggiva con il secondo gol personale della Leone, 30 secondi dopo Bogacenco firmava la doppietta sfruttando la decima superiorità delle ragazze, 4-7 a metà gara, nel terzo periodo assegna anche Giannarelli, sigillo del 9-5, a quattro minuti alla fine a Iacobi, l'ultima da arrendersi su rigore, segnava l'ottavo gol per le calottine bianche, 8-13, poi Giustini premiata come miglior giocatrice e realizzatrice del match, 5 gol, rimetteva le cose a posto con altri due gol, la Iacobi fissava il risultato, faceva partire titoli di coda, Italia batte Israele, 15-9, come detto, 2-4, 2-3, 2-4, 3-4, 2 di Cordovani, 2 di Leone, 1 di Giannarelli, 1 di Cergol, 5 Giustini, 4 Bettini, la semifinale la stiamo giocando mentre andiamo in onda e dunque forza, forza ragazze italiane, lo stop con la Grecia in gara 1 è stato ben presto dimenticato e messo nella cassettone delle cose vecchie da dimenticare. Allora torniamo in Italia dove è iniziata la seconda giornata spalmata, Savona batte la Telemar, poi Brescia in onda Milano-Metanopoli, allora Savona batte Telemar-Palermo 17-12, Milano-Metanopoli alla Cozzi di Milano sconfitta dal Brescia nel debut Lombardo, 5-16, sabato si completa il turno con Nuoto-Catania-Salerno, Lazio-Ortigia, Lanzio-Waterpolis di Roberto Tofani contro Genova-Quinto, Posillipo-Prorecco-Trieste del mio amico Razzi-Romanuoto. La classifica vede ovviamente le due squadre che hanno vinto gli anticipi a 6, Brescia-Savona, Salerno-Trieste-Ortigia, Telemar-Prorecco 3, Anzio-Waterpolis, Lazio-Milano-Metanopoli-Roma-Genova-Quinto-Posillipo-Catania hanno 0 punti. Ricordo, l'avevamo detto in rassegna stampa, la finna ha reso noto le composizioni con posi, qui manca la I, della Serie A2 maschile. Purtroppo, come si paventava la nostra benamata, l'arenante Florenzia, signori, aspetto la convocazione per cominciare a parlare di chi vi fa le partite di pallanuoto in una certa maniera, come sappiamo fare noi. La Florenzia purtroppo è immessa nel girone B, purtroppo, e allora ci saranno gravi problemi. A due maschile ecco il girone regolamento. Dunque, la finna ha varato i due campionati, giocheranno le partite a promozione le prime quattro di ogni girone che esprimeranno le due promosse, semifinali 21 e 25, eventualmente gara 3 il 28 maggio, le finali 4 e 8, eventualmente gara 3 l'11 di giugno. Le ultime retrocederanno direttamente, mentre le penultime e le terzi ultime spareggeranno 21 e 25 eventualmente il 28 maggio. Allora, ai noi, il girone A. Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Comonuoto, Crociera Stadium, Genova, The Hacker Team, Lavagna 90, President Bologna, Salta con la Rari, purtroppo il derby dell'Appennino, Arenzano, Camogli, Imperia 57, Sportiva Sturla, Torino 81, il girone Sud, munitemi di traquino e poi purtroppo tra aerei, bus e lunghe trasfette quanto verrà a costare alla Rari. Acqua Chiara 2000, Ati, Roma, Circolo Canottieri Napoli, Rarinante, Florenza e Napoli, le due società storiche di questo girone. Cus Palermo, Civita Vecchia, Muri Antichi, Catania, Florenzia, Frosinone, Sori, Roma Arvalia, Roma Bisnova, Tuscolano e Belancona. Dunque per la Rari, girone, dispendiosissimo sotto tutti i punti di vista a livello fisico ma a livello anche di casse sociali. Allora due volte in Sicilia, Cus Palermo, i Muri Antichi, Catania, una in Campania, Circolo Canottieri Napoli, sei nel Lazio più vicino a Bordabili, Acqua Chiara, Ati 2000, Civita Vecchia, Frosinone, Roma Arvalia, Roma Bisnova e Tuscolano, uno in Liguria, il Sori, anche il Sori sconta per pochi chilometri la cartina geografica negativa, una nelle Marche contro Ancona. Dunque questa è la nostra puntata di questa settimana di Palombella Biancorossa, vi lascio ringraziando Enrico Milano in cabina di regia che poi mi supporta con le immagini che avete visto, spizziche bocconi, le fotografie montate durante la nostra gara, la nostra emissione. Vi lascio e vi riproponiamo in modo da rendere più corpose e godibile questa puntata. Di nuovo il viaggio nella palla a nuoto della Rari Nantes Florenza, ripercorrendo gli amici che sono arrivati al nostro microfono a questo punto domenica scorsa alla Giardino di Bella Riva nella festa del Nuoto e Palla a nuoto, tante interviste, è un lungo post trasmissione ma credo ne valesse la pena. Ringrazio del Taglie Cucci che ovviamente li fa Enrico Milano, grazie al Presidente Andrea Pieri che ci ha ospitato e ci ha permesso di realizzare una lunga sequela di interviste. Andrea Pieri e l'addetto stampa, Rosucci aspetto la vostra chiamata, c'è ancora qualche tempo, per determinare se vorrete tornare a farvi fare le partite di palla a nuoto in diretta dei maschietti e delle ragazze dell'Alessandra Cotti, da noi o rimanere come siete messi, apro una parentesi, puntini puntini puntini, maluccio, chiuso la parentesi, è tutto, linea che torna alla regia, buon fine venerdì, buon weekend, è una 3-4 giorni che rimarrà purtroppo nella storia della Repubblica Italiana, fuori dalle piscine, sta succedendo un po' di tutto, ne riparliamo lunedì e andremo a vedere cosa sarà successo. Spero che cambi ardentemente qualcosa. Grazie a chi ha fatto in modo di andare nelle piazze, chi ha rinunciato ad andare a lavoro, 3 o 4 giorni, venerdì, sabato mattina, eventualmente anche lunedì. Assenze sul lavoro ingiustificate, le prime tre non comportano nulla, dalla quarta c'è la sospensione, si leva dallo stipendio e molte famiglie andranno nei problemi. Grazie a tutti coloro che hanno deciso di soffrire il nome della nostra Costituzione, del nostro essere fieri italiani, io in capo a tutto, grazie agli amici che ci hanno permesso di trasmettere sul 194 con le stringhe dei telefonini tutto, di contrario di tutto, viva noi italiani fieri di essere, viva la libertà, viva la nostra Costituzione, ne riparliamo lunedì, vediamo cosa sarà successo. Linea che torna alla regia, grazie, buon weekend a tutti.